E adesso vorrei farvi vedere, spendiamo un attimo di tempo a vedere come funziona l'esame, poi dopo faremo degli esercizi insieme, come funziona il meccanismo d'esame. Questo registro lo potete guardare tutti, riguardare. Allora, dove siamo qua? Allora, se entriamo nel portale della didattica, chiaramente la mia pagina è diversa dalla vostra, ma alla fine avrete una pagina che è la pagina sul portale del corso di informatica. In questa pagina c'è un link che si chiama Accedi ad Exercise. Qualcuno magari l'ha già visto, qualcuno ce l'ha già cliccato, non lo so, ma se arrivo a una pagina, ci arriva, in cui per tutto il corso abbiamo tenuto aggiornata questa cartella materiale 2022-2023, di cui non vi ho mai raccontato perché in realtà contiene lo stesso materiale che vi ho già distribuito in altri otto modi, quindi le slide, i laboratori, eccetera, eccetera. Da questa settimana abbiamo caricato su questa pagina, cosiddetta Exercise, che degli esercizi di esame che useremo rispettivamente sia per fare il laboratorio 12, quindi vi chiedo di non guardarlo, in questa settimana, lo faremo la settimana prossima nelle ore di laboratorio, così proviamo a fare una simulazione di esame, sia alcuni testi di esame selezionati da quelli dell'anno scorso. Quindi sono testi di esame veri, che sono usciti l'anno scorso, ne abbiamo presi cinque a caso, ecco, quindi non è che sono né i più facili né i più difficili. Questi esercizi sono disponibili già da adesso, penso siano visibili, non so se li abbiamo visibili, forse ieri o qualcuno mi dia conferma se li vedete. E saranno visibili per tutto gennaio, fino all'esame. Quindi potete entrare ed esercitarvi in qualunque momento. Le prendo uno a caso. Allora, questo è il formato che vi troverete anche all'esame. All'esame c'è il solito sistema Moodle, lo conoscete già perché ci avete fatto il test d'ammissione, no? Test d'ingresso, ma è lo stesso in cui vi farete quiz di matematica, se il vostro docente vi ha fatto il quiz intermedio ha usato anche lui. Lo stesso sistema, ok? Solo che in modalità di esame si entra in un modo diverso, perché si entra da un link che avete direttamente sull'home page del portale, entrate, c'è scritto un bottone grosso che è scritto entra nell'esame. Qua siamo invece in modalità demo, e quindi c'è un tenta al quiz, non è fai l'esame davvero. Bruttissimo questa parola, attenta. Lasciate perdere. Allora, l'esame è strutturato così. Quando entrate nell'esame, da quel momento in cui cliccate sul bottone, avete 90 minuti di tempo. Qui, visto che ci eserciziamo, abbiamo messo 4 ore, siamo tranquilli, non preoccupiamoci del tempo. L'esame è composto da 3 domande di teoria, e una domanda di programmazione. La prima domanda è una domanda finta, che è semplicemente un campo di testo in cui se volete durante l'esame ritirarvi, potete scrivere ritirato in questa casella. Non c'è un meccanismo automatico per ritirarsi qua. Non potete non consegnare. Una volta che avete aperto, l'elaborato viene comunque consegnato allo scadere del tempo, anche se andate via prima. Quindi, se voi per qualche motivo dite no, non ce la faccio, scrivete ritirato e consegnate, e noi se vediamo ritirato nella prima casella non guardiamo tutto il resto. Ok? Quindi questa domanda qua serve solo per eventualmente ritirarsi. Poi ci sono le tre domande di teoria, ad esempio qua dice convertire due numeri del decimale binario, eccetera, eccetera. Una domanda è sempre sulla numerazione, e poi vi mando poi un link dove ho raccolto un po' di esercizi per esercitarci su questa parte, andando a raccogliere le varie domande che sono capitate oltre a queste cinque che abbiamo a disposizione. E quindi qua dovete scrivere la risposta. La domanda tre, che sarebbe la seconda, parla dell'architettura, che è l'argomento di teoria di cui ci occuperemo la settimana prossima. è una domanda più di teoria, in questo caso di nuovo capitato sui numeri, ma normalmente è sulla parte di programmazione, su Python, strutture dati, variabili, tipi, eccetera. Vabbè, sono tre domande, valgono due punti ciascuna, c'è anche scritto qua. E poi abbiamo la parte di programmazione. Allora, la parte di programmazione si svolge su tre videate. La prima videata è che questa qua, indicata con la I, che potete anche muovere cliccando su queste caselle, che è informazione, vi dà il link al formulario. Vabbè, adesso qua vi apre il formulario, all'esame non devi fare... Cliccare qua, ma non me lo dà... Vabbè, facciamo perdere. vi darà poi il formulario che abbiamo condiviso con tutte le funzioni, no? Quello è il pdf. Adesso sto preparando una versione un pochino più ricca, perché c'erano alcune cose che mancavano, ma l'idea è quella. Oppure potete avere accesso al sito di python.org della documentazione ufficiale. Quindi anche se il laboratorio è bloccata, diciamo così, la navigazione internet in generale, invece su quel sito python.org si può navigare. L'ultimo... L'ultima pagina, la pagina 5, è l'esercizio di programmazione. Qui c'è un testo con delle cose, questo ne ho preso uno anche che era abbastanza complicato, con degli esempi di file, un testo, una consegna, insomma, un esercizio da svolgere. Non c'è un campo in cui dovete scrivere il programma qua, ma dovete cliccare su questa dicitura strana, un po' bislacca, accedi all'istanza Crown Labs. Crown Labs è un sistema che è stato costruito qua da un collega del Politecnico e dei suoi collaboratori tesisti per gestire le macchine virtuali per fare laboratori ed esami. L'ha chiamato Crown perché hanno iniziato a lavorarci nel coronavirus. Allora, se cliccate lì, vi si apre un altro tab nel browser, quindi avete sempre il tab con l'esame in cui potete andare avanti e indietro alle domande, leggervi il testo, eccetera, e poi a fianco vi si apre una finestra di questo genere che è una macchina virtuale dentro la quale non c'è niente se non PyCharm. Allora, fate solo attenzione e quindi lavorerete qua dentro questa finestra su PyCharm. La prima cosa che devi fare è accettare i termini di licenza di JetBrains. Fate solo attenzione perché a volte la finestra viene fuori così. Cioè, se avete uno schermo troppo piccolo, una risoluzione dello schermo piccola, non riuscite a... se la gente va nel panico e fa io non riesco a fare niente, non riesco a entrare, semplicemente di prendere questa roba, metterla qua e dire sì, va bene. Sembra banale ma il panico d'esame è tanto tranquillo che gioca a brutti scherzi. Ok? Poi a questo punto parte PyCharm e vi apre già un progetto nel quale è precaricato il file main vuoto in Python e i file su cui dovete lavorare, i file di esempio. Quindi in questo caso vi fa vedere che c'è un progetto dove c'è un main.py qua dentro e dei file all'avvio è un attimo fatica un attimo come sempre perché deve caricarsi tutte le librerie eccetera vedete che fa lavoro ma ci sono i file su cui lavorate già nel vostro progetto già nella cartella giusta quindi non dovete né scaricarvi né nulla e c'è un file main.py nel quale adesso ci sono semplicemente delle print che stampano video il contenuto di file per vedere che tutto sia a posto che tutto funzioni ma poi quelle le cancellate e vi scrivete il vostro programma scrivete il programma dentro questo file qua main.py non create nuovi file non create nuovi progetti soprattutto non create nuovi progetti perché la consegna come funziona ricordiamoci che noi siamo sempre sotto il timer dell'esame anche se lavoriamo in una finestra a parte quindi noi possiamo in qualunque momento tornare indietro io vedo studenti che preferiscono fare prima le domande di teoria poi congiuntarsi sulla programmazione studenti che preferiscono fare la programmazione e per minuti 28 secondi scrivere cose nella parte di teoria ma quello ve lo giustite voi il tempo non è un problema allo scadere del tempo sapete che PyCharm i file li salva in automatico quindi non dovete salvare nulla di particolare quindi main.py viene automaticamente salvato man mano che scrivete e allo scadere del tempo tutto il progetto viene non immediatamente ma dentro qualche minuto viene copiato salvato zippato e consegnato sul portale sull'app sul portale della didattica c'è una sezione consegni elaborati non so se qualche cosa vi hanno fatto consegnare gli elaborati lì sopra in cui voi potete caricare degli elaborati che vi chiede il docente e il docente li può vedere ecco il programma viene caricato automaticamente in quella sezione così noi ce lo possiamo scaricare guardare correggere anche voi stessi a casa potete scaricarvi ciò che avete fatto ciò che avete consegnato per controllarlo e festeggiare oppure no quindi la consegna è automatica allo scadere del tempo non dovete fare nulla di particolare qualunque cosa capiti non preoccupatevi non perdete mai niente nel senso che anche se per caso uno scrive un programma una parte di programma e poi sbaglia perché chiude per sbaglio PyCharm tranquilli ritorna se lo chiudete questa macchina virtuale una cosa fa vi fa PyCharm quindi se per caso lo chiudete per sbaglio c'è un timer che entro un minuto ve lo rilancia e vi ritrovate il file così com'era così come se quindi non potete scappare da qua siete in trappola e lo riapre col programma che avevate già scritto già iniziato a scrivere quindi ovviamente quando riparte ci vuole un po' di tempo la stessa cosa succede se doveste allora prendiamoci qua il mio diamo di tempo poverino main.py le schifezze che avevo scritto in fondo dovrebbero ancora esserci eccola qua ok quindi non abbiamo perso nulla se anche doveste per sbaglio chiudere il tab o chiudere il browser o tutto semplicemente andate qua e lo riaprite cioè fino a quando è attivo il timer non perdete nulla ok allo scadere del timer viene consegnato in automatico quindi ad un certo punto questa finestra qua si blocca anche lì altro momento di panico ah si è bloccato tutto non semplicemente è consegnato perché è finito il tempo quindi non panico lasciamolo fuori dalla porta se possiamo ok ci sono alcune alcuni dettagli a cui però bisogna fare attenzione questo è il normalissimo PyCharm per cui se fate run qui potete fare run potete fare debug potete mettere breakpoint normalmente come fate sempre ok è completo l'ambiente con l'auto completamento eccetera c'è la versione se non sbaglio 3.8 di Python ma va benissimo le uniche piccole problematiche che ci possono essere sono a volte sulla tastiera perché noi non stiamo usando un programma sul nostro computer stiamo usando un programma su una macchina virtuale che gira dentro il mio browser che poi si collega in rete con quella macchina per cui alcune commissione di tasti vengono intercettate dal browser e non arrivano diciamo così alla macchina virtuale per cui ad esempio qua ci sono dipende poi dalle tastiere le tastiere del laboratorio normalmente sono tutte le tastiere italiane quindi sapete come fare le varie lettere accentate parentesi e cose varie qui vi dice come suggerimento innanzitutto vi dice dove è scritta la parte in italiano scrivete qui la soluzione non create un nuovo progetto se invece create un nuovo progetto questo non viene consegnato viene perso e quindi è come se non faceste l'esame su windows i caratteri graffa e parentesi quadra usarli con col tasto alt di destra e non con la combinazione ctrl alt di sinistra della tastiera perché questa combinazione ctrl alt viene intercettata a volte dal browser che regola lo zoom della finestra però vabbè se avete dei problemi lì e se può capitare adesso la maggior parte di voi sono italiani però ci sono studenti stranieri che magari capita che hanno il loro computer con una tastiera non italiana alcune comienzano i tasti magari non riescono a funzionare perché la macchina virtuale non li riconosce allora noi abbiamo messo qua sotto tutti i simuli speciali possibili immaginabili mal che vada fate copia in colla da qua normalmente si evita però proprio il caso limite ma di solito si riesce a lavorare normalmente ecco il fatto di darvi questa cosa qua un mese in anticipo vi permette di provare tutti i casi particolari vedere che funzioni da voi in modo che quando arrivate all'esame vi sentite tranquilli perché siete padroni dell'ambiente in cui lavorate allora la valutazione poi viene fatta separatamente per le domande di teoria e le domande di programmazione quello che faccio io è la parte di programmazione viene consegnata in automatico ve la potete scaricare dalla vostra pagina personale del portale per vedere cosa avete fatto le domande di teoria che avete consegnato alla fine dell'esame io vi faccio mandare dal sistema Moodle c'è un sistema automatico per cui manda ciascuno di voi un pdf con la copia delle proprie risposte quindi il giorno stesso la sera avete la traccia di ciò che avete fatto la potete riguardare così vi servirà poi anche in fase poi di valutazione per capire poi da quel momento in poi passano un numero imprecisato di giorni in cui mi diverto io a correggere le vostre risposte e i vostri programmi e poi pubblico i risultati quando pubblico i risultati che è un voto finale metto anche su sia come commento alle risposte di teoria che come commento alle risposte di programmazione metto una piccola descrizione una motivazione del voto insomma chiaro che se hai una risposta e prendi due punti su due non ti scrivo niente però se ti metto un punto zero punti un mezzo metto una frase una mezza frase per farvi capire cosa avete sbagliato e idem sulla parte di programmazione di solito metto 4-5 righe in cui vi faccio capire quali sono gli errori di cui ho tenuto conto questa cosa qua vi verrà mandata quando pubblico i voti di nuovo con questo meccanismo di invio dei pdf che sono un po' scomodi da leggere ma pazienza insomma l'informazione c'è tutta quindi lì avrete la copia delle vostre domande il voto finale e le motivazioni dei singoli voti sulla base di quello potete poi decidere se vi va bene questa valutazione oppure se eventualmente rifiutarla e vi darò qualche giorno di tempo per farlo ok? la parte di programmazione viene valutata soprattutto dal punto di vista della funzionalità del programma ok? quindi non viene valutato particolarmente perché non ci sarebbe comunque tempo in un'ora e mezza dovete fare tutto quindi non possiamo pretendere che ci siano programmi perfetti da ogni punto di vista quindi se non avete trovato la soluzione migliore più efficiente più ottimale non importa è chiaro che se uno ha trovato una soluzione ottimale più bella magari fa più piacere magari un punto in più lo prende ma non è che se non hai trovato la soluzione migliore ti boccia l'importante è che le funzionalità che vengono richieste siano implementate se riuscite a implementare in un modo migliore meno contorto è meglio per voi perché scrivete meno codice ed è più chiaro più semplice e ci sono meno probabilità che facciate errori di programmazione viene valutata la funzionalità ma non viene valutata in modo assoluto cioè non vado a fare eseguire il programma funziona sì non funziona no ma cerco anche di capire cosa avete fatto nel mezzo perché magari sai un dettaglio una cosa vi scappa o una parte non siete riusciti a farla allora vado a vedere nel merito che algoritmi avete usato che strutture avete usato quindi normalmente in mente mia non ve la condivido ma mi faccio una griglia di valutazione in cui vado a vedere le varie funzionalità se sono state implementate o no cioè correttamente oppure non correttamente oppure mancanti e poi la scelta delle strutture dati utilizzate la scelta degli algoritmi e la padronanza del linguaggio no? python gli errori di sintassi o che possono scappare oppure una cosa usata nel modo sbagliato eccetera eccetera sulla base di queste combinazioni qua di queste valutazioni qua dopo il voto finale quindi questo vuol dire che voi vi dovete concentrare sulla realizzazione delle funzionalità richieste quindi se io sono bravissimo a fare tutti i controlli sulla input dei dati ma in realtà il programma mi chiede sì di leggere un dato ma poi di fare altre 800 cose non andate a concentrarvi su una cosa che sapete fare dimenticando tutto il resto ok? o quindi date più importanza alle parti algoritmiche alle parti diciamo così specifiche di questo dell'esercizio che vi viene proposto cercando di implementare tutte le richieste anche non in modo perfetto eccetera qui adesso ho preso un esercizio che è abbastanza lungo quest'anno cercheremo di darci delle regole per fare in modo che anche il testo non sia molto lungo per non farvi diciamo spendere troppo tempo a leggerlo in realtà è lungo ma perché ci sono tanti esempi comunque questi avete modo di non lo leggiamo insieme perché avete modo di farlo e poi magari in queste settimane poi magari in gennaio risolviamo insieme quelli che vi hanno dato più difficoltà ma nel frattempo vi condivido anche altri testi di esami così il materiale per esercitarsi ne avrete in abbondanza una cosa che vi dico è che noi quando prepariamo questi testi ovviamente proviamo a fare una risoluzione e la soluzione che facciamo noi ci siamo dati la regola che la soluzione non deve essere più lunga di 60-80 righe di codice quindi è qualcosa che è fattibile nell'ora un'ora e mezza vedete che se la cosa se voi cominciate a scrivere troppa roba probabilmente state prendendo la direzione sbagliata ok c'è una domanda forse dimmi 6 e 26 le domande di teoria sono due punti ciascuna e la domanda di programmazione a cui c'è scritto uno ma è sbagliato è 26 punti quindi fa 32 dimmi allora la domanda sua è se c'è un punteggio minimo sulla parte di teoria da raggiungere la risposta è sì ma non è un punteggio numerico che vi metto come soglia nel senso che non potete consegnare la teoria in bianco e fare solo e concentrarvi solo sulla programmazione perché in quel caso diciamo così entrambe le parti devono essere fatte ok non voglio mettere una soglia due punti due e mezzo tre però quello che vi dico è fate anche allora lo dico senza registrazione anche se sono registrato la parte teoria è un modo per prendersi sei punti facili ok quindi fatela studiate quel minimo che serve vedete che gli esercizi quando vedete vedere sono tutti abbastanza ben classificabili ecco quindi non non prendetela troppo sotto gamba c'è un'altra domanda? no allora se non ci sono altre domande su questo ritorneremo più avanti provateci a usarlo e noi adesso facciamo un po' di intervallo in questo momento e nel pomeriggio nell'ora successiva invece ritorniamo a fare qualche esercizio sulle strutture dati grazie a tutti grazie a tutti